ci sono le pallavoliste a manetta e le tenniste tutte ingrifate guardate come esultano in maniera prorompente facendo emergere delle vocalità estreme vediamo se si riesce ad andare verso quella direzione perché qua è tutto così siamo serrati e io cammino malissimo è tutto rinchiuso in se stesso un bunker nazionale allora qua però il percorsino può favorire la digestione che non c'è stata bancarelle oh che carino io sto fare desi Grazie a tutti. Dal 24 al 28 soldati. Guardate quanta gente si accalca per il prossimo incontro. Minchia signori, mi sono passati davanti dei lottatori di sumo da 200 kg minimo. Mi hanno messo un po' di tremarella, ho cercato di fermarli ma la loro possenza mi hanno guardato male. Erano praticamente dieci me in uno solo. Comunque come presagivo c'è il torneo, si conclude il 28, c'è un museo che purtroppo per oggi è sold out, anche il museo. Quindi vabbè, adesso vado, qua vicino ci dovrebbe essere un ottimo parchetto e un ottimo memoriale. Facciamoci un altro giretto. Oh, che bello! Signori, fra le mie tappe c'era sicuramente questo giardino che è caratteristico perché il laghetto che si trova all'interno è a forma di cocoro. Ovvero il carattere nipponico di cuore. Un po' di verdino ci stava, guardate che belli ingressi. Andiamo di qua. Oh, bello! Oh, ma è spettacolare! I papirilli! Signori, questa è la panchina di un noto film d'animazione, chiamiamolo così, di cui non ricordo il nome adesso, però aveva esattamente questa identica forma. Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Signori, sono entrato nel Museo del Ricordo del Terremoto.